Chi sei? Mario Muscat, ex portiere di Malta, leggenda di Malta. Accetti di stare in porta con i tiri dei tuoi portieri? Accetti, lo giuro. Aspetta, devo farti una foto. Lo giuro che c'è, lo giuro. Attenzione, è un momento storico questo. È l'ultima esibizione. Ehi, calma, una destra e una sinistra, non fate cosino. Non fate cosino, non fate cosino. Va bene, senza cugini. Sì, sì, da dove? Sì. Quello di agosto viene congelato in due. Oh, due. Come, sono fatti di notte? Eccolo! 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 Ed è schifo, va getto. Non so, si è. Vai dire sto, vai dire sto, è sentito da passo. Vado, 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 vado. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti